29 minuti in questo momento taglia il riguardo l'atleta della runner Varese bravissimo no davanti, no davanti, via di lì per piacere al secondo posto, al secondo posto il numero 1237 Putifuad Alberto posto, Bernarchi, Francesco Marchi, Quarto, Quinto, Marco Piatto, vincitore lo scorso anno comunque nei primi dieci anche oggi, una grandissima gara alla sua poca distanza il numero 660, Mignani, Ferdinando e la cardaclina no dai, per piacere, per piacere, per piacere per trovare il numero 2, ecco, Luke Roberts bravo poi Maliqua Francesco Piccinelli dell'Atletica Verbana in questo momento siamo in attesa dell'arrivo della prima donna la prima donna, bella e brava sicuramente, che taglierà il traguardo di questa quarta edizione della Gavirate sotto le stelle in grande spolvero numero 803 famiglia sempre presente, mentre anche il numero 661 taglia in questo momento il traguardo sprint a due, il numero 574, la spunta di pochi metri sul 1.083 ecco che gli arrivi si susseguono grande sprint, grande sprint, dando tutto questi atleti ecco i due amici del gruppo della Sacra Famiglia che si è appreso a tagliare il traguardo allo sprint finale forza che mancano pochi metri forza che sei arrivato sale il tifo, stai per tagliare il traguardo numero 1024 bravissimo come ti chiami? bravo Donato un grande applauso anche a queste ragazze che tagliano il traguardo che sono vinto si susseguono gli viti della paradunga sprint fino all'ultimo è davanti alla telecamera, grazie bravo bravo anche a te che tagliano il traguardo in questo momento attenzione bruciata sul traguardo in vero spirito sportivo tagliano il traguardo assieme Rosanna Urso e Sabina Ambrosetti dai darci dentro fino all'ultimo bravissime, prima donna al traguardo di questa quarta edizione della Camerata sotto le stelle avanti avanti per favore bravi a tutti i concorrenti che stanno portando a compimento la loro gara si susseguono gli arrivi degli sprint di questa quarta edizione vi attende tanta buona bella presta birra 1.241? scusi, 1.241 un atleta di Gavirate è finito con fatica bravissimo bravissimo forza che è finita seguito ancora l'atleta di Gavirate e poi il numero 811 all'arrivo non si può riposare i nostri volontari del piede d'oro sempre attivi sempre presenti che si terrà il 23 di settembre l'atleta di casa il nostro Caprioli al traguardo in questo momento bravissimo bravissimo un gruppetto allo sprint un gruppetto allo sprint conduce il numero sul traguardo del numero 1469 la spunta bravissimo bravo, bravo, bravo sono finito le tue fatiche dicevamo comunque il 23 di settembre vi aspettiamo tutti il 23 di settembre terza donna al traguardo in questo momento quarta donna scusa per passare una negra serata in compagnia chi più ne ha più di meta tutte in puntazioni mostre serate culturali tanta amicizia tanta allegria tutti assieme eeeh scudri eeeh eeeh